Siamo nel dopogara e di questa sfida tornano i tre punti, ma sono tre punti decisamente conquistati con tanto sacrificio, ma soprattutto si è rivisto il bel gioco. Se tralasciamo la gara della scorsa settimana e torniamo un po' a quella di 15 giorni fa, dove avete veramente faticato soltanto nelle battute finali, siete riusciti ad arginare la sconfitta. Era importante tornare a fare tre punti? Sì, questi tre punti erano veramente importanti. Diciamo che questa era non la partita decisiva, però da questa potevamo vedere se eravamo in gara per stare alte nel campionato, nella classifica. Abbiamo giocato bene, abbiamo comunque fatto un buon risultato, è finita sia tre. Abbiamo sempre i nostri tre o quattro punti di blackout, in cui molliamo. Forse per la certezza, probabilmente abbiamo tanta certezza di vincere e caliamo la tensione e la concentrazione, però comunque ci siamo riprese verso il finale, abbiamo comunque fatto gli ultimi gol, l'ultimo gol e insomma abbiamo conquistato i punti. Allora, andiamo un po' a parlare invece per quanto riguarda le caratteristiche di questa gara. Il mister che continuamente dalla panchina chiedeva più il fraseggio in maniera veloce, ha scelto poi proprio te forse per fare questo gioco, anche se molte volte i lanci lunghi non hanno poi prodotto quanto sperato. No, diciamo che loro ci sono venute a prendere pesantemente negli ultimi minuti di gara, proprio perché capivano che ce la potevano fare. L'unica cosa che potevamo fare è mandare avanti la squadra, a volte non è andata come doveva, però l'importante è il risultato finale. Siamo arrivate alla vittoria, giustamente meritata. Ecco, questi blackout di cui parlava anche la tua compagna di squadra, sono quelli che un po' hanno caratterizzato la parte negativa di questa gara, anche perché avete chiuso il primo tempo in largo vantaggio, poi avete trovato subito il gol, l'avete allungato, poi c'è stato questo momento che avete consentito all'ossia di tornare in partita. Sì, diciamo che questo è quello che succede un po' in tutte le nostre gare, ci addormentiamo, pensiamo di aver vita facile, invece alla fine ce la complichiamo da sole, facciamo tutto da sole. Bene, allora lasciamo intanto l'Aiello, un'ultima battuta invece con la battone, tre gol, si potrebbe definire anche il match winner di questa sfida, però sottolineava il tecnico Fonte Maggi, in quanto riguarda nella difesa del pallone, un po' carente in quanto spesso si perdeva l'avversaria. Sì, spingiamo comunque molto, andiamo a prendere comunque l'avversario alto considerando la nostra caratteristica atletica che ci caratterizza e probabilmente percorrendo tutta la fascia per tutti i 60 minuti cadiamo un po' sulla difesa, insomma dobbiamo migliorare su questo. Questo sicuramente è l'aspetto durante la settimana che andrà curato. Sì, andremo a lavorare su questo, però comunque l'importante è mettere la palla in rete. Bene, a questo punto salutiamo anche il match winner di questa sfida, ricordiamo il risultato finale, Anziano Alvino batte Ostia 6 a 3.